5 su 9, ma non mi interessano intanto gli archivi Siamo su PKXD Mi chiamo Viola perché ho cambiato il nome qua, ma vabbè Ho messo come nel mio vecchio colore preferito Questa cassa la voglio prendere una gemma sola All'inizio c'è una ruota, molte volte io prendo 6 gemme Volevo prenderne oggi Oggi 5 con la ruota, invece ne prendo 6, volevo prenderne Invece ne prendo 5 e adesso prendo la sesta Cos'è questo? Allora, non sto capendo niente E' inutile che leggo perché non capisco quello che c'è scritto Ma vabbè, sono ancora piccola per capire l'inglese Ok, devo fare dei quali Immagino Ed è... Vabbè, si partecipa Credo sia qualche cosa della memoria Non era qualcosa dell'amore Voglio comprarne uno subito Questo era troppo bello Allora, ce la posso tenere solo per qui Ho i capelli brutti qua su Pigapex di lo so E però non ho abbastanza soldi E voglio comprare un veicolo che costa 6.000 Io i capelli me li potrei anche fare tra un pochino Però... Però voglio un veicolo per andare Che... Qua non si può Perché te li fa usare soltanto per la gara E più vai veloce Più te ne do Io li ho spesi Ora come io ne prendo solo 10 Mi secco Che cosa sto facendo? Cliccando Cosa non lo so Perché non ho il volume Quindi non so manco se sto facendo No No, 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 no Dai, sbrigatevi Ci sono quelli che La stanno già facendo Allora, ok, dai Una ha finito Una ha finito, ok C'era solo questa Ok, io ci voglio giocare Perché Memory Race Non lo so Allora, Memory Race Non lo so Allora, non so perché Oh, là c'è una cassa La voglio prendere Infatti Quella è per farvi Negli altri Opla 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 Preso 35 Belli sono Buoni sono Non beh Ok, forza Corri 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 No, 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 no Sull'erba no No, di nuovo Sull'erba no Ok, forza No, ne devo fare un altro Va bene, va bene Ok, forza Io e queste gare Zero Perché non riesco Non riesco ad andare dritto Ok, ok Ce l'ho fatta però Male Ma ce l'ho fatta Adesso me ne ha dieci Ok, no, me ne ha dati dieci Che bello Ho fatto anche soldini 25 Ok, ma io sto registrando Sì, ok 50 Perché? Premium Cos'è questo? Ah, no, costa No Niente Non l'ho mai guardato La voglio Questa cassa Qua Al centro Ebbè, basta Questa del mio record Da 59 No No Da 41 Ok, no Non ho Dimenticato di comprare Quello nuovo Vabbè, no Faccio così perché Si comprano Mobili Con quei cosi Ne ho già trovati Dei gratis E ho anche comprato Un quadro con la nuvola Ok Adesso non ce l'ho più Ok Ho sbagliato strada Quindi devo usarlo Ok Già sta andando meglio Perché questo Già va meno veloce Quindi è più semplice Quindi è più semplice Opla Mi seccavo Preso Preso No Qua Va bene Va Ok Prendiamo questo Poi questo Poi questo Questo Ok Ce l'ho fatta Sono stata più veloce Stavolta Stavolta Sono stata più veloce Perché ho messo questo Perché ho messo questo No Non le volevo Non le volevo Ok Dai Penso che Con 145 Qualche cosa La compro Sì 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 Sicuro Qualche cosa La compro Io pensavo Che compravo Tipo la bici E poi me la potevo Tenere per tutto il tempo Tipo qua sotto Qua no Invece Perché io vorrei tanto un veicolo Ma quello meno caro È 6.000 Trenè che guardo un video E me lo devo tenere Soltanto per un po' Poi lo devo ridare Propriamente quando lo tolgo Dovrei riguardare un altro video Per riaverlo E a me non interessa O almeno l'ho usato un sacco di volte Sì Perché volevo Sbrigarmi un pochino Che mi devo sbrigare Tipo adesso Un sacco di tempo Questo ti fa andare più veloce Boh Mi fa andare più lento Mi sembra Questi no Non li compro Ok Questa era gratis La cassetta della posta Sto dicendo la cassaforte No Il quadretto con la nuvola Non era gratis Non mi ricordo No era il quadretto con lo dog Gratis Molto carino Io l'ho preso Cioè io vedo qualche cosa gratis Prendere Intento prendere perché è gratis Poi non mi piace Lo stesso Io l'ho preso Perché poi mi dovesse piacere Io ce l'ho Ok Sto cercando qualche cosa Ma non sto trovando niente di carino Questo tappeto è bello Questo col teschio rosa Ce l'ho ai soldi per il quadro E il tappeto col teschio rosa Si Inizio col quadro nuvola Ok Poi anche questo Le cose gratis Se ne puoi prendere uno solo Ok Cos'è Questo muro Aspetta Non mi ricordo Quale era all'interno No Allora Non lo voglio Però come pare A te è molto carino Non ce l'ho Mi per cinque Vabbè pazienza Per cinque Non ce l'ho Andiamo a casa L'ho redata Così così Questa è casa mia Ma quella normale Ancora Perché ci ho speso un sacco Per tutti gli arredi Che poi tipo Se compro quella nuova Me li tengo Perché questa non è come Su dei soldi Ma poi te lo ridò Ma ho ancora le luci di Natale Allora Questo lo tengo Questa è Camera mia Col computer La tv Il buffo Un quadro Il letto Il tappeto L'aircade E le luci Ci ho giocato l'ultima volta A Natale Per questo Ho da togliere Le cose di Natale Potrebbe essere Non so che viene messa In un altro modo Però mi piace così Ora cambiamo Tutto perché È Natalizio Tipo questo è Natalizio Però questo lo devo tenere Perché Perché era molto carino No Qua in bagno Di Natalizio Non c'è niente E mi pare anche normale In bagno Non si decora Ok Cambiamo Le pareti Allora Walls Mettiamo Qua Qua Questa No Aspetta No Walls Ai pavimenti No No Un attimo Mi sto Mi sto Confondendo Walls Ok No Non mi piace Non mi piace Era questo Bello Mi piace Mi piace Mi piace Si io voglio questo No Troppo scuro Troppo scuro Troppo scuro Non mi piace Vabbè ragazzi Anzi no Arredo La prossima volta In un nuovo video Di Pickup XD Ci vediamo Al prossimo video Ciao